Venditalia 2022 continua, ci troviamo allo stand della DDSSRL, l'azienda che realizza la macchina da caffè più utilizzata in Italia per le ciale e siamo in compagnia del suo proprietario nonché responsabile commerciale, Fulvio Di Santo. Fulvio, dopo tanto tempo è davvero un'impresa fantastica quella di averti accanto a me per poter comunicare con gli amici di bandintv.it. Grazie a te Fabio e grazie un po' a tutti coloro che seguono questa tua emittente, questa tua testata giornalistica, tutto quello che riesce ad aiutarci a diffondere, comunicare con tutto il mercato dei nostri storici clienti. Veramente ho piacere innanzitutto pure di rivederti perché è un po' di tempo che non ci si vede, questa situazione pandemica indiscutibilmente ci ha fatto lavorare molto perché siamo stati in grado di poter lavorare presso le nostre industrie ma indiscutibilmente spesso la difficoltà di avere contatti, confronti, ci ha un po' limitato e del resto ha limitato anche la possibilità, benché viviamo nella stessa città, di poterci vedere con frequenza. Diciamo anche che le fiere, il contatto umano sono le cose che occorrono per poter fare business ma anche e soprattutto per poter avere i rapporti personali e per continuare a essere vicini. Una delle cose che per la prima volta, prima che iniziasse la fiera, la sera prima abbiamo avuto un incontro in albergo con tutta la Forza Vendita, una richiesta che ho fatto a tutti i nostri storici agenti che sono davvero la punta di diamante di questa azienda, è quella di ricevere con tanto affetto e tanta attenzione tutti i clienti storici a prescindere dalla distanza o a prescindere anche dai volumi di acquisto. Il rapporto storico, l'amicizia e il confronto non ha certamente un peso economico o altro, perciò devo dire la verità che comunque andando un po' sull'argomento che appunto è questo Venditalia 2022, avevo avuto già la settimana scorsa partecipando al Cibus un'iniezione di ottimismo, di pedonabilità, di presenza nell'ambito di quella fiera, ma devo dire la verità che questo Venditalia ci ha riportati un po' a casa nostra, perché anche questo fatto di ritornare presso Fiera Milano, City, la vedo come se fosse il nostro vestito su misura, dentro la città con spazi giusti, abbiamo tra virgolette anche onorato questa fiera con uno stand importante sia per quanto concerne la dimensione, sia per quanto concerne indiscutibilmente la qualità e una cosa che devo con piacere riscontrare è che tutti gli stand, tutte le aziende di tutte le industrie tra macchine, prodotte e quant'altro hanno portato una crescita di contenuto, di eleganza, di attenzione proprio nella qualità dell'hospitality dello stand stesso. Julio, alle nostre spalle c'è quella che riteniamo la grande novità presentata da DDS al mercato del vending, non nascondo che il giorno prima che iniziasse la fiera sono venuto a vedere anche il vostro stand e quando l'ho vista accanto alla Frog ho detto oibo, giuro che è così, sembra uscita da un lavaggio con acqua calda dalla lavatrice e nel momento in cui poi ho girato lo stand e ho visto che era praticamente il vostro claim ho cominciato a ridere perché abbiamo pensato la stessa cosa perché è davvero una perfezione nel andare a ridurre il formato la Frog che sappiamo benissimo ormai è la macchia più venduta nel settore dell'OCS e del vending in Italia per la realizzazione di estrazione del caffè in cialda. Guarda, ti ringrazio per questa pura tua attenzione anche legata allo slogan non abbiamo sbagliato il lavaggio, abbiamo semplicemente fatto qualcosa di più attento e anche di più moderno. Devo dire la verità che comunque avendo oggi fatto uno sviluppo aziendale perché l'azienda appunto è da un anno che è in una nuova sede, abbiamo comprato una sede, abbiamo creato una sede nuova, poco più di 2000 metri, al di là proprio della bellezza e della modernità della struttura, la differenza che fa la DDS è quella di incominciare a portare all'interno una serie di figure che riguardano appunto la comunicazione, ricerca e sviluppo e ancor più un progettista. Questo ti permette di pensare delle cose e cercare di abbozzare e di realizzarle con massima velocità. Nella creazione del layout, dell'estetica della macchina, avevamo un po' puntato su diversi temi, il retro, l'aveneristico e tanto altro. Poi devo dire la verità, l'intuito come sempre anche del mio socio, nonché Massimo Renda, nel dire al progettista proviamo a fare una cosa, scarichiamola del 30% di dimensioni e proviamo a vedere, stampiamo un po' un attimo perché abbiamo una divisione di stampaggio ovviamente interna in azienda e cerchiamo poi di dargli una chiave di miglioramento anche in termini di leveraggio e lì abbiamo ovviamente ospitato all'interno della macchina un gruppo più evoluto che ha, tra virgolette, un compensatore idraulico che permette di poter risolvere la forte manualità di compressione della leva che è un aspetto, tra virgolette, critico della FROG nonché un aspetto con questa soluzione migliori fortemente il problema che tutte le macchine a cialde, compreso le nostre, hanno sempre avuto che se non togli nell'immediato una cialda in carta filtro fai difficoltà dopo un po' di tempo perché solitamente tenta in attimo ad accolarsi nell'ambito del gruppo. In questo caso con questo compensatore idraulico siccome c'è una corsa di richiamo di circa 2,5 mm la cialda non essendo pressata in modo energico rimane nel suo posto dopo anche qualche ora o anche un giorno la toglie con una semplicità incredibile. Ovviamente oltre a quello siccome stiamo andando in una situazione di forte attenzione sul consumo energetico la Babyprog ha una resistenza che assorbe solo 450 watt e credo che sia la macchina a oggi al mondo che ci abbia il minore assorbimento e al contempo ha anche uno stand by disattivabile tra virgolette che ci porta veramente ad avere un prodotto fortemente attenzionato al momento che ci abbiamo. Insomma l'avete studiata davvero bene? Sì tra l'altro abbiamo ovviamente non abbiamo più la possibilità di inserire la bottiglia da due litri che è stato un punto di forza della Frog all'interno del contenitore del serbatoio è possibile ospitare una bottiglia da mezzo litro però diciamo senza la bottiglia il serbatoio contiene un litro e mezzo che è davvero tanto in proporzione a quello che è la macchina. Ovviamente anche la tastiera e anche l'aspetto estetico ovviamente migliora fortemente con dei tasti a led che danno anche un'immagine simpatica ancor più a questo animaletto così chiamato come Frog che comunque è stato un po' la chiave di successo di questa azienda. E allora Fulvio sebbene voi abbiate una rete estremamente capillare di agenti che arriva davvero in tutta Italia c'è sempre la maglia che si smaglia e magari qualcuno che non ha contatti con voi o con gli agenti di IDS Burbone. Qual è l'indirizzo di posta elettronica a cui poter scrivere per richiedere informazioni o la visita di un agente senza alcun impegno? Info chiocciola di dssrl.eu poi credo che comunque la presenza oggi noi abbiamo nove agenti storici che coprono tutta l'Italia e a sua volta da un anno loro hanno creato delle agenzie inserendo almeno tre o quattro collaboratori per gli agenti un po' più importanti che avevano un suono e un po' più importanti. A oggi l'ho visto ieri sera invitando tutta la forza vendita a cena eravamo 36 persone. Perciò dico con difficoltà non si riesce ma una delle cose che ribadisco e lo ribadisco di nuovo che la massima volontà per chi è già cliente nostro e che per noi è un patrimonio devo dire e per chi lo vuole anche essere ma soltanto avvicinarsi per capire quali sono i progetti anche i futuri che ne saranno tanti oltre a conoscere questa bellissima risposta perché mi soffermo giusto per dire che non è che fossi in credo ci credevo molto in questa baby frog però obiettivamente avere questa risposta, questa attenzione, questi consensi in questi tre o quattro giorni è stato veramente andrò via domani da Milano davvero molto 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 soddisfatto. Per chiunque voglia venire in azienda massima disponibilità perché per noi come dico ricevervi, parlare come succede in fiera è un punto di incontro ma è arricchire, capire le tendenze, quali sono le loro obiezioni e quali sono praticamente le loro esigenze per farci migliorare il prodotto e per portare sul mercato prodotti sempre più innovativi. Complimenti per questo successo annunciato della baby frog, Fulvio grazie. Grazie per il tuo contributo che come sempre è molto ben accetto e apprezzato. Grazie a te Fabio e a tutti coloro che seguono i tuoi programmi, le tue testate giornalistiche. Grazie amici, noi continuiamo perché qui a Venditalia 2022 le novità non si fermano alla baby frog ma sono davvero tante, tantissime e noi abbiamo il dovere di documentarvele tutte. Grazie a tutti.